Ciao, sono Phil Grondona, ho 22 anni e nella mia vita non ho mai fatto un lavoro vero. Per questo ho deciso di creare un podcast in cui in ogni puntata divento lo stagista di alcune delle persone che stimo di più per imparare tutti i segreti del loro mestiere e del loro successo. Se non volete perdervi le prossime puntate, a proposito, iscrivetevi a questo canale se ci state guardando su YouTube e iscrivetevi su tutte le piattaforme di streaming da cui ci potete ascoltare. In questo primo episodio sono lo stagista di un creative e light designer, nel corso della puntata poi capiremo bene cosa vuol dire, che ha lavorato con artisti come Travis Scott, The Weeknd, Fedez, Achille Lauro e moltissimi altri. Jacopo Ricci. Come stai? Bene, molto bene, tu? Alla grande, grazie mille, sono felicissimo di iniziare con te. Finalmente, ci incontriamo. Esatto, perché noi ci sentiamo da un po' di tempo, però questa è la prima volta che ci vediamo di persona. Tra l'altro, in questo podcast, l'idea è un po' quella di, davvero, visto che tutti i miei amici mi dicono che non hai mai fatto un lavoro vero, è quello di imparare dei mestieri. In questa chiacchierata parleremo del lavoro che fai tu, che sulla carta c'è l'etichetta è show e light designer. Però sono curioso di sapere, e credo anche chi ci sta guardando e ascoltando, come hai raccontato il tuo lavoro per la prima volta, tipo a tua nonna o ai tuoi genitori. Ok, sì, è complicato perché comunque, appunto, c'è un titolo ma è molto fluido, diciamo così. Cambia in base alle produzioni, in base alla tipologia di show che vai a fare, che può essere televisivo, può essere una sfilata di moda, piuttosto che appunto il concerto classico, che però poi si sfaccetta in festival, club, indoor, outdoor, palazzetti, quindi tutti i tipi. E di base quello che faccio è raccogliere un po' tutti i dipartimenti che poi il pubblico vede con gli occhi, quindi praticamente tutto tranne l'audio. E quindi questo include ovviamente tutto quello che è luci, tutto quello che è effetti speciali, automazioni, scenografie, e poi ovviamente c'è tutta la parte di coreografia e costumi, su cui ci sono altri professionisti con cui mi interfaccio, altrimenti sarebbe uno spettro troppo ampio di conoscenze da avere, ovviamente. Andare pure sullo styling e sulla coreografia mi sembra un po' troppo, però tanti di quelli che fanno il mio lavoro, per esempio, nascono coreografi. Ah, vedi, non lo sapevo. Più che essere un production designer, che è il designer che poi è creativo, ma si scontra con la realtà, c'è poi il direttore creativo che è tendenzialmente un po' più astratto nelle idee. Servono tutti e due. Con l'idea fantastica. Facciamo volare una persona sopra la gente, poi magari sarà compito di chi deve realizzarlo poi fattivamente, capire come farlo. Però diciamo che c'è sempre qualcuno che lo deve riportare con i piedi per stare dicendo ok, dobbiamo valutare la sicurezza. Budget, sicurezza, varie cose. Che poi credo che sia il grande problema di chiunque faccia l'artista, cioè c'è un momento in cui qualunque artista, che sia un pittore, un cantante, qualunque tipo di mestiere artistico venga in mente in cui inizia a diventare un lavoro. Certo. Secondo me per forza di cose a un certo punto devi trovare un compromesso. Cioè quando inizi ad avere a che fare con tante persone. Non è necessariamente una cosa negativa, però se vuoi crescere è uno dei prezzi da pagare. Lo scontro, quello diciamo lavorativo sano. Esatto. Quindi l'incontro, chiamiamolo più che scontro. Il dover interagire ovviamente con varie persone, ognuno la vede nel suo modo e poi ovviamente c'è tutta una questione un po' più diciamo terra terra, quindi soldi e logistica proprio spicciola. A te se capita, che ne so, di magari di non riuscire a realizzare un'idea al 100% per come ce l'hai in testa, qual è il tuo modo di approcciarti a questo tipo di problemi? Cioè se sei uno di quelli che magari ti dispiace, ci provi fino all'ultimo, oppure dici ma alla fine ci sono problemi più grandi, va bene anche così. Cioè non mi faccio la testa su una virgola che magari non viene come volete. No, diciamo che poi ovviamente mano a mano che fai questo lavoro è molto... è molto uno scegliere le proprie battaglie, quindi ovviamente non puoi combatterle tutte perché ce ne sono parecchi ovviamente nella costruzione dello show. C'è il batterista che magari vorrebbe il suo solo che sia la parte più bella dello show, però poi magari tu devi rispondere anche all'artista e al chitarrista che magari è amico dell'artista. E quindi poi ci sono una marea di dinamiche, trame, sottotrame, storie parallele. Certo. Dinamiche che neanche vedi ma che esistono magari da prima che ti chiamassero, perché tante volte poi gli artisti hanno i loro team, cioè i team degli artisti sono più solidi di chi fa il mio lavoro chiaramente. Cioè il ricambio che c'è su una mia figura. È molto più facile che uno per rinnovare magari un evento che va avanti da vent'anni di che quest'anno chiamo te. Esatto, l'artista X fa il ciclo album, il ciclo dell'album e mi chiama. Poi però non è detto che il prossimo tour lo faccio io. Certo. È molto più probabile che però il batterista che ha fatto il primo tour faccia anche il secondo. Ti sarà capitato almeno una volta nella vita, magari con un tuo amico, con qualcuno che hai appena conosciuto, magari eri lì, sarebbe stato troppo complesso spiegargliela bene e gli hai detto hai presente i concerti, l'head o l'immagine? Ecco quella roba lì la faccio io. Esatto, sì, di solito sì la riduco, cerco di asciugare un pochino perché ovviamente è una roba lunghissima se andassi poi a spacchettarla in tutte le sue sfaccettature, però di base sì, cioè di base è vai a un concerto, tutto quello che vedi più o meno in una certa misura passa da me. Per chi non conoscesse Jacopo, tu hai 28 anni e hai già una carriera incredibile nel senso che come appunto Show Live Designer, Creative Director hai lavorato veramente per artisti incredibili. Voglio fare dei nomi così a caso. The Weeknd, La Sudiscia House Mafia, Skrillex, Travis Scott, anche tantissimi artisti italiani, Fede, Zachille Lauro, l'Eurovision. Ecco, vorrei tornare un po' indietro nel tempo e capire in che contesto sei conosciuto. Tu sei romano, voglio sapere i primi anni della tua vita perché non so se sei d'accordo ma capita anche a me quando magari racconto quello che faccio. A me piace pensare che in un qualche modo chiunque di noi nasca con un dono e poi state nel corso della tua vita a scoprire quello cui sei più bravo, no? Però secondo me fa tanto anche il contesto in cui nasci, in cui cresci e vorrei tornare a conoscere lo Jacopo di, diciamo, di... Baby Jacopo. Esatto, di sei anni che abbiano finito l'asilo a Roma. Ok, allora, vabbè, intanto non è Roma-Roma perché io la chiamo Roma perché siamo comuni di Roma però è Ostia. Ok. Vivo sul mare, periferia, quindi un po' avulso dalle dinamiche metropolitane. Ok. Però, cioè, nel Stato Ostia è una periferia finita. Diciamo il famoso traffico di Roma. Lo vivo, lo ho vissuto quando ho cominciato ad andare all'università, quello, per esempio, perché ovviamente l'università era dentro il raccordo, questa famosa barriera intangibile che per chiunque vive in altri posti d'Italia è una leggenda, c'è chiunque di noi almeno una volta nella vita ha sentito la radio e nelle infotasiche... Il grande raccordo anulare. Che cos'è però? In tangenziale, in carreggiata esterna e bloccato. Esatto. Sì, no, quindi no, non l'ho mai vissuto nella mia tenera età, però ecco, non è... Tu senti di essere a Roma perché comunque è la città non comune più grossa d'Europa. Ok. Forse non è accurato, però so che lo era una volta. Lo è stato. Esatto, quindi è una città a tutti gli effetti. Certo. Nasco lì, faccio una vita del tutto normale come se vivessi in una città, tant'è vero che ad oggi io vivo ancora lì e nel futuro vorrei vivere lì in realtà. Il Mediostia nasce super curioso da sempre, ovviamente spinto dai miei, mai posto limiti di nessun tipo alla curiosità, ho sempre, ovviamente per fortuna sono cresciuto in un contesto abbastanza medio, alto, quindi agiato, ho avuto questa fortuna e i miei non mi hanno messo paletti, cioè fin tanto che fossero scelte ragionevoli chiaramente, non mi hanno mai detto vai di qua piuttosto che di qua. Potresti fare il medico, l'avvocato. Esatto, mai avuto in posizioni di questo tipo, banalmente mio padre è un ex guardalino di serie A di calcio e io totalmente fuori da ogni dinamica del calcio. Non te ne hai mai fregato nulla del calcio? Zero, non ho una squadra del cuore, non lo guardo, ho guardato, guardo le partite dell'Italia, la classica cosa. Però se devi seguire tra Lazio e Roma? Non scegli. Veramente? Non ne ho una, mio padre è da sempre simpatizzante Lazio, mia madre è da sempre simpatizzante Roma, quindi ho spaccato a metà ma zero interesse, quindi niente, mia famiglia tutta nello sport, quindi ho questa pure formazione, quindi un po' abituato alla pressione, all'ansia della gara, alla competizione, poi ho fatto uno sport individuale, il nuoto agonistico per anni, che ricordiamolo è lo sport più completo che esista insieme alla scherma, fatelo giovani bambini così crescete con le spalle belle larghe. E quindi io nuotatore da sempre, agonistico, tutta la mia famiglia nel nuoto, mio papà nel calcio e niente, sono cresciuto così a Ostia, super curioso, senza limiti, senza imposizioni più che limiti, ovviamente non è che sono ricci rich, proiettato nel mondo del budget infinito. No, certo. Però chiaramente... Però con la serenità di... Ho sempre avuto il privilegio di poter esplorare nuove strade, cioè nel senso la mia carriera banalmente nasce dal mio desiderio un po' infantile, ma abbagliato da questo mondo di fare il DJ. Ok. E infatti ti volevo chiedere, tu in quegli anni lì, tipo quando andavi all'elementare, che passione avevi? Cioè questo mondo già... Io no, elementari, medie, era più elettronica, informatica, programmazione. Io facevo solo i Lego quando andavo all'elementare, quindi dove è ground molto diverso. Perfetto, la prima volta che ho fatto Sega a scuola è stato per andare con un mio amico a casa sua a programmare delle cose. Ok. In seconda media. Ok. Non fate. A Roma si dice fare Sega. Fare Sega. Il famoso bigiare la scuola. Bigiare, sì, esatto. E mi fa sempre molto ridere, questo lo so grazie ad Amadeus in un'intervista, ciao Amati, aspettiamo a questo podcast, a Verona si dice fare Berna. Ok. Ah, che è il contrario chiaramente. Praticamente, sì. Ok. E niente, quindi... Oddio, dove ero? Eh, scusa, no, ti ho fatto perdere il tuo... No, del fatto che quando saltavi la scuola ti capitava di andare a programmare. Esatto, quindi quello era il periodo un po' nerd, chiuso in casa, sono sempre stato abbastanza introverso, però quello particolarmente un po' il mio periodo informatica e elettronica, tant'è vero che dopo le medie, liceo scientifico, perché nella mia mente avrei fatto ingegneria elettronica. Ok. E qua ci... Mi fermo un attimo perché saltiamo il liceo che è abbastanza tutto regolare, abbastanza lineare, nuoto sempre, a un certo punto... Quanti giorni a settimana? Sei su sette. Caspita, cioè quindi... Sei su sette, tre ore al giorno, più la palestra. Sì, no, era la mia vita. Cioè, mia madre allenatrice, ex allenatrice della Nazionale di Nuoto Sincronizzato. Cioè, però posso dire che è famiglia incredibile, tipografi, guardaline, strutture di sette di nuoto, esatto. Sì, sì, tutti ancora nello sport, mia madre ancora corre, mio nonno, 86 anni, pacemaker, bypass al cuore, ancora ha fatto gare di nuoto fino a due anni fa, adesso si riposa tranquillamente a casa. Però se glielo proponi un po' di ferito. Però se glielo proponi, secondo me, se glielo dico, si organizza. E ha fatto il cammino di Santiago, un pazzo, tre volte l'ha fatto, perché una non bastava, l'ha fatto due volte in bici e una volta a piedi. Però non ci siamo fatti mancare niente. Aspettiamo anche tuo nonno a questo podcast. Esatto, due volte dopo le operazioni, quindi noi impanicatissimi a casa, lui, io vado. Beh, comunque si vede proprio che sei cresciuto in una famiglia in cui hai avuto degli esempi. Stimolante. Molto stimolante. Sono stato fortunato, molto fortunato e non manco mai di farlo presente, perché poi c'è tutta una parte del mio lavoro che è gestire tutta una serie di persone che mi chiedono come fare questo lavoro. Comunque, finisco il liceo, vado e mi iscrivo a Ingegneria Elettronica. Ok. Che liceo hai fatto? Scientifico. Ok. E mi iscrivo a Ingegneria Elettronica, inizio, e non ho fatto un cazzo. Ok. Praticamente ho fatto sei esami in tre anni. Beh, ottimo. No. Sei esami in tre anni e praticamente uno degli esami, penso, mi ricordo che un anno per arrivare al numero minimo di crediti, per arrivare all'anno dopo, sfruttai i tre crediti dell'idoneità di inglese, che io già avevo perché ho studiato inglese. Quelle che ti porti dal liceo, ti porti le certificazioni inglese. Esatto, quindi ho preso questi tre crediti, li ho messi là, ho detto ok, sono passato al secondo anno e con lo stesso trick sono passato al terzo per poi rendermi conto, oddio, non voglio fare questa roba. Ok. Quindi la realizzazione, all'epoca ero fidanzato, avevo già un po' smesso di nuotare perché comunque università, fidanzata. Certo. Poi, ovviamente dopo i 18 anni hai la macchina, quindi hai più libertà di non fare le cose che prima eri costretto a fare perché banalmente io mi allenavo lontano da casa e quindi o dovevo prendere i mezzi o mi ci portavano. Certo. Quindi non è che potevo troppo non andare, cioè la mia giornata era molto scandita. Quando invece ho preso la macchina, avevo la ragazza e tutto, uscito dal liceo, ho detto oddio, questa è la vita vera, posso prendere delle decisioni un po' più, ancora più liberamente. e quindi ho cominciato a allenarmi di meno per cercare di fare l'università e nel frattempo ho cominciato questa carriera da DJ, un po' al liceo che poi me la sono portata un po' all'università e che durante il mio percorso all'università si è tramutata in più organizzazione di eventi. Ok. Quindi organizzavo delle serate in una discoteca ostia. Tipo PR. Esatto. Tu quel mondo lì. Esatto. Io però, introverso, facevo più parte di produzione, quindi tecnica, gestivo, quindi l'organizzazione della serata. Tipo service. Esatto. E mentre invece nella storia più antica il mio migliore amico, più cazzaro diciamo, gestiva i rapporti col pubblico. Quindi gestiva i PR, controllava i biglietti e tutte queste cose. E niente, a forza di fare serate, il caso ha voluto che uno dei soci di questo locale lavorava in televisione come tecnico luci. Ok. E io che ero già un curiosone che quando andavo nei villaggi turisti… Disco te, discoteca ostia, service, ragazzi che dà una mano. Con il sogno di fare il DJ famoso. Ok. Quindi diventare il Calvin Harris di turno. Tra l'altro ti interrompo per dirci là ancora questo sogno. No. Oddio, se mi cadessero i soldi di Calvin Harris addosso non è che disdegnerei. Assolutamente. Ma quello credo anche mia nonna. No, esatto. No, però in un qualche modo mi hai confermato una cosa che io sostengo da tempo. Un po' a luogo comune, ma anche un po' vero. E cioè che tutti i DJ da sempre sono persone che non andrebbero mai in discoteca da spettatore. Cioè persone estremamente chiuse lì nella cameretta. Mai stanno in una discoteca. Infatti io quando mi chiedevano questa cosa dicevo sempre che ho iniziato a fare il DJ per non dover inventare scuse per non andare in discoteca con i miei amici. Vedi? Io mi organizzavo le mie serate e sono già in discoteca. Però sono dall'altro lato. Esatto. E ti fa sentire, come dirai, la sicurezza, forse da persona timida, ti capisco perché cioè sono esattamente anche io così, hai la tua zona di comfort. Cioè sai che non devi metterti troppo in gioco perché comunque sei lì a fare qualcosa, stai lavorando. E a mia volta anche quando ho iniziato a organizzare le serate mi sono messo ancora più indietro. Quindi non ero la faccia della nostra serata, ma ero tutta la macchina dietro, diciamo. Certo. E da lì poi appunto ho conosciuto questa persona e l'ho tartassata. Io mega curioso, quando ero piccolo e andavo nei villaggi turistici, chiedevo a mio padre di portarmi a far vedere la regia del villaggio turistico. Quindi io bussavo al fonico e gli chiedevo scusa mi fai vedere tutti questi bei pulsantini. E ho foto nei miei album di vacanze di io seduto con... Mi abbraccio sconosciuti, fondamentalmente. Che però erano i tuoi idoli in quel momento. Esatto, in quel momento erano i miei idoli, praticamente. E quindi questa persona mi ha preso... Cioè mi ha voluto bene. Ti ha preso sotto la sua ala. Esatto. E mi ha fatto iniziare. Cioè mi ha portato in televisione a tirare cavi, ad appendere luci, a montare palchi. Questo è in una televisione locale a Roma, no? No, no, no. Non interni in televisione. Quindi già io col sogno dell'autonomo. Ah, ok. Cioè dove serviva... Io proprio non ho mai fatto... Ecco, questa forse è la mia particolarità. Non ho mai fatto un lavoro da dipendente. Sei sempre stato freelance. Tutta la mia vita ho sempre avuto questa cosa di non voglio in posizioni dall'alto. Perché non me le hanno mai messe e non vorrei iniziare ora. Che forse è un po', come dire, first world problem. Problemi del primo mondo per gli italiani in sala. Esatto, però è... Nel senso, sono stato fortunato perché devo adesso cambiare questo stile di vita se esiste un modo. Ovviamente se non fosse esistito il modo di farlo non avrei potuto farlo, mi sarei dovuto accontentare. Però esiste un modo ed è essere freelance. E quindi ho abbracciato da subito questa cosa. Da subito partita IVA. No, guarda, con me sfondi una porta aperta nel senso che è una banalità, però al mondo si divide in due categorie di persone. Quelli che... E non c'è nulla di male in entrambi i casi, ci tengo a specificarlo, sennò sembra subito che parta la polemica, no? No, ci sono oltrettanti creativi che per esempio lavorano in studi. Esatto. E sono felici così. No, ma sono studi giganti, chiaramente. Cioè è uno studio che per esempio cura, che ne so, le cerimonie di apertura delle Olimpiadi. Chiaramente non puoi immaginare che sia io freelance che adesso faccio la cerimonie di apertura delle Olimpiadi. No, è un team a capo, un'azienda, chiaramente. Però non è che quelli non hanno soddisfazioni solo perché sono sotto libro paga. No, ma poi voglio dire, cioè nel senso è ovvio che in determinati contesti debbano esserci dei gruppi di lavoro e delle persone che stanno sotto. Però in generale condivido molto quello che dici e credo che molti saranno d'accordo perché questo ti permette di avere tantissimi stimoli. Credo che chiunque faccia il lavoro creativo dopo un po' si stufi della routine. Sì, di essere sempre nello stesso posto. Ma infatti pure in quelli che vedo, i miei colleghi che magari sono assunti, cambiano molto spesso le aziende per cui lavorano. Cioè comunque la loro figura è una figura che ha un peso e quindi quando si spostano portano il loro know-how nel posto nuovo in cui vanno. Quindi sono abbastanza intercambiabili. Diciamo che comunque rimani una figura che si può spostare. Certo. Non nasci e muori fortunatamente nello stesso posto che è una gran cosa. Perché? Anche se però credo che soprattutto, vabbè noi ci passiamo qualche anno, però credo che la nostra nuova generazione abbia un po' sdoganato la cosa che devi passare tutta la vita in un'azienda. No, esatto. Cioè la generazione dei nostri genitori è stata abituata al famoso posto fisso. Esatto. Il posto e il tempo indeterminato, sì, chiaro. No, secondo me infatti adesso abbiamo superato questa barriera e io mi sento totalmente a mio agio in questa condizione di, se vuoi, incertezza poi, perché comunque dipende da te fondamentalmente. Cioè, può andarti benissimo ma non è la garanzia che accada su un mese. Esatto, ci sono stati periodi in cui mi è andata molto male. Cioè, banalmente il covid del mio lavoro non esisteva. Io ho fatto due anni di totale relax. Non hai lavorato. Mi sono un po' reinventato ed è lì che ho preso, ho colto la palla al balzo e ho un po' anticipato quel processo che volevo già avviare, che mi avrebbe portato da fare solo luci a fare un percorso, ad avere una visione un po' più ampia su uno show. Certo. Mentre invece prima, siccome mi sentivo ancora nei miei primi anni, dicevo, ok, resisto ancora un po', non mi faccio tentare da fare il passo più lungo della gamba, perché comunque ho bisogno forse ancora di questa esperienza. Era il tempo ancora in cui passavo da un artista grande all'altro, quindi ho detto, prendo tutto quello che viene e me lo tengo dentro. Poi, prima o poi, questa roba tornerà. Poi questo bel piano ideale è stato stroncato, come penso i piani di milioni di persone. Di chiunque. Esatto. Falciato in questo modo e io mi sono ritrovato e ho detto, bene, adesso io praticamente perderò due anni della mia vita, cioè adesso io sono in realtà idealmente in due anni in ritardo sulla mia tabella di marcia. Per quello che ti eri prefissato. Però, esatto, però il covid mi ha insegnato, se devo trarre un insegnamento da tutto questo, mi ha insegnato a rallentare. Ok. Perché è cronologicamente il modo in cui il mio lavoro si è sviluppato, quindi dal me, e quindi adesso guarda che senti che link che ti faccio, dal me. Di Ostia. Esatto. Tecnico Luci, in gavetta, al me che manda un curriculum ad un'azienda che organizzava le serate per Ushuaia e I, Ibiza. Due grandissimi locali di Ibiza. E che è stato poi ovviamente il mio trampolino, perché facendo una stagione lì mi hanno preso, spoiler. Ok, ok. Facendo una stagione lì poi chiaramente sono venuto a contatto con tutti quelli che ora sono i miei colleghi, o con tutti quelli che ora sono i miei clienti. Certo. E quindi da là poi, catapultato, 2017, la mia vita ha fatto così. Tu ce l'hai questa cosa del non accontentarti mai? Un po'. Un po', sì. adesso, cioè lo devo fare ora e deve venire come volevo che venisse. Se no, cioè mi creo molte aspettative, mi faccio molti film. Sono uno che pregusta molto le cose prima che avvengano. Ok. Cioè nel momento in cui ti dicono... me le riguardo e me le studio da altri punti di vista, prima di venire qua io ho immaginato come potesse essere questo momento. Sai che sono uguale, ma credo anche molti che ci stanno guardando. non lo sono guardato da lì, me lo sono guardato da qui. Come era da qui? Bello, tutto bene. È come te lo immaginavi più o meno, o meglio? No. È meglio, pensavo che sarebbe stata più una chiacchiera al tavolo, un po' più impostata, però meglio così. Meglio. Esatto, mi piace di più questo. Ci fa piacere. Hai detto delle cose bellissime, che credo possano essere l'ispirazione per molti. La cosa che mi ha più colpito è questo discorso del non accontentarsi mai. È una banalità, una frase da festival della banalità, però credo caratterizzi un po' tutti quelli che raggiungono grandi cose, come nel tuo caso. Lo dico io. Se tu saresti poco umile, lo dico io, anche se è ovviamente... Sono totalmente inabile a prendere i complimenti, quindi quando mi torno i complimenti rimango un po'... Ti imbarazzo, non sai mai cosa dire. Grazie. No, credo che questo non accontentarsi mai, che è la grande arma a doppio taglio, perché è quello che non ti fa mai sentire seduto, ma allo stesso tempo quello che non ti fa godere degli obiettivi che raggiungisci è un po' una... Però ecco, adesso ti dicevo che dopo il covid c'è un po' un'altra faccia di me, quindi c'è un po' due lati di me paralleli che camminano, c'è questo non accontentarsi, ma c'è anche un sano accontentarsi quando serve. Cioè dire, ho raggiunto le cose belle e me le godo per un attimo, non è una gara. Esatto. E soprattutto quello di prendere... Cioè, il covid veramente mi ha fatto fermare, perché io dal 2017 sono partito. Non mi sono fermato un attimo. Cioè, io ho fatto la mia stagione a Ibiza nel 2017, gennaio 2018 in tour in Brasile con il mio primo artista, Alesso, e da lì non mi sono più fermato. È stato tutto molto... Fino al covid. Ho fatto l'ultimo show il primo gennaio 2020. Cioè, oggettivamente non hai vissuto in un modo in cui vive una persona... No, perché praticamente poi ovviamente essendo sempre in tour, io mi sono lasciato poi prima di Ibiza, quindi poi completamente libero, senza vincoli. La mia vita è diventata praticamente una montagna russa. Ti sei divertito. Esatto. Ero a casa, non ero a casa. I miei amici non sapevano dove ero oggi. Non c'era nessun tipo di logica in questa vita. Ho preso 200 voli in un anno, ho vissuto sei mesi in un albergo, in alberghi vari sparsi per il mondo, tutto tracciato perché sono un po' ossessivo compulsivo, quindi mi scrivo tutto, mi segno tutto. Quindi ti ricordi tutte date, giorni? Ho tutti i voli che ho preso da sempre, dopo te lo faccio vedere. Se vuoi sì, dopo... Ho un bel Google Sheet con tutti i miei voli. Questa è una cosa che un po' ti invidio perché a volte anche vorrei ricordarmi di posti in cui sono stato, ma l'unico strumento che ho a disposizione, che per carità va benissimo, sono le foto del telefono. Ok. Cioè, che ne so, vado a vedere, scrivo sulla galleria giugno 2018 e li vedo ok il 4 giugno No, io sono un po' appassionato di aviazione, poi ovviamente... No, veramente. Io volevo fare il pilota d'aere. Ok, esatto. Io ce l'ho ancora un po' sto sogno. Il mio feed YouTube è pieno di video di piloti, di aerei, cose così. Stanno uscendo così tanti argomenti che questa conversazione potrebbe durare sei ore. Esatto. Comunque, niente, io sono partito a palla, quindi poi il covid mi ha forzatamente fermato e durante il covid ho detto, ah ok, quindi la mia vita è... Cioè, cos'è la mia vita? Certo. Non sapevo che cos'era. Ho imparato a fermarmi e a dire... Ed è per quello che prima fuori onda ti dicevo, non sto andando così spesso in America adesso. Ed è una mia scelta. Non è che non ho proposte. Si sono ridotte, certamente, perché ovviamente quando abbandoni un'area o comunque quando abbandoni un gruppo di clienti, ovviamente perdi un po' il contatto con quella realtà. Certo. Quindi chiaramente il mio numero di clienti americani si è abbassato organicamente. e poi un po' per scelta, perché ho detto, mi sono detto, ma io tutti sti show grossi l'ho già fatti. E per me, che è assurdo dirlo, è un artista vale l'altro. Cioè una volta che ho fatto uno stadio, per me è lo stadio che conta. Che poi se lo faccio per uno piuttosto che un altro, sì, può essere bello. Però per me l'artista diventa un cliente a tutti gli effetti. Cioè non ho quella visione mistica e mitificata. Sembra brutto da dire, ma sei un professionista. Secondo me è come un professionista dovrebbe... Esatto. E quindi ho un po', diciamo, freddato i miei rapporti nei confronti di questa cosa. E per scelta adesso mi, tra virgolette, se vuoi accontento. Quindi un po' fa il contrasto con quello che dicevamo prima. Però ho pensato di fare questo investimento sulla mia vita qui. Certo. Quindi ho detto, io nel futuro dove mi vedo? Non mi vedo in America. Non voglio vivere in America. Non mi piace la cultura americana. Mi piace la cultura europea. Magari vivrò a Londra o ad Amsterdam. O a Roma o a Milano. E questo è un altro punto su cui io mi scontro sempre con i miei amici. Tipo, ma hai visto posti? Hai girato? Mi piace qua. Questo è un tema... Mi piace l'Italia. Davvero interessante. Cioè, voglio vivere in Italia. Sono stato... Hanno provato a trascinarmi via un sacco di volte e non voglio vivere qua. Perché giustamente qualunque tuo amico dice... Magari ci torniamo anche dopo, però qualunque tuo amico dice... Ma tu sei magari una volta al mese a Los Angeles... Hai la possibilità di stare lì? Potresti realizzare il sogno di qualunque italiano? Ma anche artisti americani mi hanno chiesto... Vieni a lavorare qui. Perché sei lì? Perché noi comunque europei, italiani... Secondo me noi europei in generale ce l'abbiamo il mito del sogno americano. Anche se, non so se sei d'accordo, io ho qualche amico americano... È in decadenza un pochino. È un po' in decadenza, dici? Secondo me sì. Io non sono un fan. Secondo me le nuove generazioni... Cioè tipo io sono nato nel 2000, quelli nati dopo di me non hanno più il mito dell'America. Forse la mia è l'ultima generazione di quelli che hanno il mito dell'America. C'è il mito dell'Oriente. C'è tipo BTS, K-pop... Sì, 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 sì. Vabbè, certo. Guarda, la mia ragazza che fa regia ha fatto un documentario adesso sul K-pop, quindi... Wow. Sono preparato, quindi so che è un fenomeno che in effetti... Salutiamo la ragazza di Jacopo. È come dici tu e è in crescita nelle nuove generazioni. Forse esatto, la tua generazione è un po' lo sbarramento tra il sogno americano e questo sogno un po' più, non lo so, futuristico, pop, neon. Sì. O forse un inizio di consapevolezza che anche in Europa si sta benissimo. Anzi... In realtà, esatto, per certi aspetti, senza entrare poi troppo nel merito della cultura americana che tutti conosciamo. Io non ne sono un fan, quindi io la sopporto fin tanto che sto lì per lavoro e anche lì dopo un paio di settimane comincio a piano piano a voler tornare a casa, sì. A te capita di, quando parli con artisti o con i tuoi amici americani, poi torniamo sul te bambino, però abbiamo aperto questa parentesi, mi faccia piacere parlarne, di avere amici americani che hanno il sogno europeo. Io ho alcuni amici americani che tra l'altro lavorano nel mondo spettacolo in America, tipo uno che fa l'autore in televisione in America e lavora per un super show della CBS, un altro che fa la radio. Quando parlo con loro, quando io da italiano, da europeo dico, eh, un giorno sarebbe bello venire in America a fare, loro dicono, ma noi quasi quasi, cioè, vorremmo andare a Londra, vorremmo andare a Milano. Sì, sì, no, io ho un paio di colleghi proprio con cui sono stato a stretto contatto in tour, affascinati ovviamente e super curiosi, mai stanchi e mai paghi dei miei racconti sulla vita che faccio io, cioè che è la mia vita normale poi tra l'altro, quindi niente di così esoterico o assurdo. Però loro affascinati da questa cosa e con questo sogno che nella loro vita futura si ritireranno in Europa. Ma secondo te perché noi abbiamo questo mito dell'America? Perché la idealizziamo così tanto? Non lo so, secondo me loro sono stati bravi a vendersi bene in passato, ma effettivamente se ci fai caso anche le notizie di cronaca poi attuali, un po' quel glam dell'America, figa e basta, senza problemi, si è un po' rotto. Assolutamente, sì. Prima era una facciata ben solida in cui siamo fighi, facciamo cose fighe e adesso invece cominciano a trapelare le prime magagne. Cioè sono umani anche loro. Esatto, sì, che poi in realtà se vai poi a scandagliare forse hanno molti più problemi di noi che invece ci lamentiamo molto e guardiamo fuori. Certo. Perché se vai a vedere noi per fortuna magari non abbiamo il ragazzino che spara dentro una scuola. Ce ne abbiamo tanti altri magari di problemi. Un caso su un milione può capitare, però con la frequenza con cui capita lì. Cioè ce ne sono, esatto, cioè ce ne sono varie cose che sarebbe giusto esportare dall'Europa all'America e varie cose che sarebbe giusto importare dall'America a qui. Sono delle banalità, però le solite cose che si elencano, la patente a 16 anni, il vero a 21 anni, è sempre un racconto che non avrà mai fine, però è vero. Di possedere armi anche, a 16 anni puoi sparare mi pare, non puoi possederla ancora, però dai 18 anni puoi anche possederla. È veramente incredibile, è veramente incredibile, però credo tu sia d'accordo, diciamo, che la mentalità delle grosse città che noi pensiamo sia un'America, quindi Los Angeles, San Francisco, New York, è molto diversa poi dall'America vera. È falsato, la vera America non è quella. Io in tour ho avuto modo di sfiorare la superficie dell'America vera, non posso neanche dire di aver visto l'America vera, però non mi scorderò mai di quella volta che ho fatto una data con tre biscotti in Alabama, nella settimana in cui passò quello scandalo in cui i governatori dell'Alabama sostenevano che stuprare una donna fosse legittimo. Quindi puoi capire il mood che c'era in una situazione di festa e squadra europea calata in una situazione completamente assurda per noi, perché per noi quella roba dovrebbe essere superata da tempo e loro ne stavano ancora discutendo nel momento in cui noi eravamo a fare un festival, che è una roba dei giorni nostri, moderna, mentre invece la legittimazione dello stupro non lo è, chiaramente. E quindi c'era un po' questa dicotomia che era molto strana e il pensiero mio era tipo, ma quindi in questa folla pazza di animali che sono a questo concerto ci sono tante ragazze fondamentalmente in pericolo, perché in questo stato, essendo poi la legge americana statale, in realtà non sono in nessun modo tutelate, noi stiamo facendo un festival gigante in cui la gente è ammassata ed è un attimo che può succedere qualcosa. Cioè per noi è così scontato che non sia la regola. Cioè io mi sentivo proprio a disagio ad essere in un posto, cioè percepivo questa energia strana di questo posto sbagliato, cioè che avesse delle fondamenta, cioè delle cose basilari poi, perché questa è base della vita civile, così profondamente sbagliata e lontana dalla mia cultura. E invece qual è il posto di America più chic, più... Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles e il suo... Più di New York? È una bella battaglia. Io, se dovessi dirti, ho vissuto, tra virgolette, per lavoro, tra andate e ritorni e cose varie. Alla fine ci ho passato due anni a Los Angeles. Il blocco più grosso è stato buoni quattro mesi lì. E ti dico, è lontana proprio da chi sono io. Cioè Los Angeles è lo stereotipo che conosci di Los Angeles. Quindi è solo Instagram, c'è tutta una serie di influencer più o meno valenti, che però non è l'influencer che ci tiene. Certo. È proprio... Lì è veramente lo stereotipo che tutti conosciamo dell'arrivismo puro. Poi trovi pure tutto un sottobosco di gente che si fa un culo come una casa, che ti viene a prendere in Uber e vedi che sul sedile del passeggero c'ha un copione perché è veramente... Perché sogna di fare l'attore. Esatto, c'ha veramente quel sogno e mi è successo, nel senso che non è una roba da film. Cioè effettivamente ti viene a prendere l'Uber e il tizio o la tizia o esce da un casting o si sta preparando per un casting. O un'audizione perché è un musicista o un artista, qualunque cosa. Mentre in New York è proprio lavoro. È molto più una Milano all'ennesima potenza. Esatto, sì esatto, stavo per dire proprio Milano, anche se però noi non abbiamo poi una vera Los Angeles. No, perché la cosa pazzesca a dire, io ero rimasto scioccato, cioè non so quanti magari ci stanno guardando e ascoltando, sono stati a Los Angeles, però se vai lì col concetto europeo di città, cioè non è una città, cioè sono tanti isolotti staccati tra loro. Sì, ognuno vive di vita propria, ha le sue abitudini, ha i suoi riti, le sue persone. Infatti qualche tempo fa ho visto un TikTok e mi aveva fatto molto ridere di una ragazza che diceva quando i tuoi amici europei vengono a trovarti a Los Angeles e ti dicono no, andiamo a piedi. Vedi praticamente questo video di loro che camminano di fianco a un'autostrada con la polizia che addirittura si ferma perché è ma tutto bene? Esatto, sì sì sì, no è assurdo. Tu puoi muoverti, è proprio a misura di macchina, benzina, 5.000, proprio bruciamo il gas, cattiveria americana. Quindi sto un po' nell'aria al momento ed è una scelta mia quella di non fare lavori fuori perché voglio curare qua, perché siccome io nel futuro mi vedo qua, è giusto che io adesso prenda contatti qua. Mi sono accorto che nessuno qui mi conosceva, cioè io qui in realtà ero rimasto fermo nel tempo allo Jacopo apprendista ed è stato anche abbastanza traumatizzante se vuoi perché io pensavo... Che è pazzesco sentito da uno che comunque ha lavorato con il DJ. Esatto, io in maniera del tutto naive se vuoi ho detto boh sarà l'esperienza che ho fatto fuori a parlare per me e mai pensiero fu più sbagliato perché io poi mi sono dovuto scontrare con tutta una serie di dinamiche tutte proprie del nostro paese chiaramente. Mi fai un esempio? Tipo, c'è mio cugino che vorrebbe disegnare questo tour, quindi abbiamo chiamato lui perché rientra nel budget. E secondo te questa cosa in America non potrebbe mai succedere? Succede, mi è successo anche in America e chiaramente non sono un esterofilo a tutti i costi, tant'è vero che appunto... No, no, assolutamente. Da me non sentirai purtroppo mai cose troppo positive sull'America e... però comunque non... Non... cioè è stato una realizzazione per me, è stata un'epifania, ho detto cazzo questa... questo mio piano non sta andando come previsto, ci devo mettere un po' del mio. Quando hai parlato dell'università prima mi ha incuriosito un aspetto, tu hai detto, io mi sono reso conto che ho studiato ma non me ne fregava assolutamente nulla di questa cosa, che credo sia una situazione in cui tantissimi giovani, cioè secondo me è strano se a 20 anni, a 22, 23 anni, non c'è un momento in cui dici forse ho sbagliato strada. Io che sono la persona più convinta della strada che ho intrapreso, anche a me ogni tanto capita di avere dei momenti in cui dice... in cui dico ma è la mia strada. Come hai reagito? Cioè per un attimo hai avuto una voce che ha detto no, però non posso mandare per quel paese. Io ho panico totale. Devo diventare un ingegnere. Io ho panico totale, tant'è vero che penso che il terzo anno... penso di aver fatto il terzo anno perché dovevo rispondere a questa idea che io in primis mi ero fatto di me. Perché la società te lo imponeva. Esatto, e che comunque... che poi neanche troppo imposto dalla società perché in realtà io me lo sono autoimposto e poi ho detto agli altri che avrei fatto quello. Quindi io in realtà mi sono fregato da solo perché sono io che ho deciso che volevo fare ingegnere elettronica e poi sono andato dagli altri e ho detto io diventerò un ingegnere elettronico. Ma se io forse, non lo so, avrei dovuto pensare di più, ma forse no. Cioè forse è andata nel modo in cui doveva andare. E quindi io a un certo punto, a aprile-maggio del 2016, mi rendo conto che basta. Cioè stacco la spina a questo morto che cammina. Perché effettivamente quello era. Perché sei esami in tre anni non è fare un'università. Era semplicemente perdere del tempo mentre sto cercando di lavorare. E allora ho detto... Sto sprecando del tempo da una parte. E quindi ho detto basta, taglio la testa al toro, lascio l'università, rinuncio agli studi, quindi proprio non c'è ritorno. La famosa spunta su rinuncio agli studi sul sito dell'università. Annullo i miei ultimi tre anni, quindi neanche possibilità di recuperarli eventualmente quei miseri sei esami da 18-20 su 30. Praticamente dei voti terribili. La mia vita era 22 e mezzo, me lo ricordo ancora. Perché ho ancora l'accesso al portale dell'università. E niente, quindi mollo e decido che voglio fare questo lavoro full time. E immagino sia stata la scelta migliore che potessi fare nella tua vita. La scelta migliore della mia vita, ma è stato anche totalmente un salto nel vuoto. Perché io ad aprile 2016 non avevo assolutamente una carriera. Ero uno stagista che andava e appendeva le luci al grande fratello. Vedi? Esatto. Quindi totalmente nel buio. Pazzesco. Niente, niente. Poi dopo sono caduto bene. Un po' per tempismo, un po' per capacità, un po' perché ho visto che c'è la fortuna. Secondo me, non lo so, secondo me la fortuna un po' te la attiri nel momento in cui rischi. Cioè vorrei tornare, abbiamo parlato del te che inizia a fare il garzone, freelance, aiuta, mette i cavi, le luci. Poi hai citato quello che ha tutti gli effetti, quella che ha tutti gli effetti la grande rampa di lancio della tua carriera. Cioè tu arrivi, ti proponi a questi locali, questi discoteche. Forse chiamarle discoteche è riduttivo. No, esatto. Sono vere e proprie produzioni di concerti a tutti gli effetti. Deltissimo livello. Ti proponi, ti prendono e poi da lì dimostri sul campo quello che vale e quindi fai questo, hai il successo. Ovviamente avevo fatto le mie esperienze in cine qua, piccoline con la console, i piccoli show disegnati da me, appunto anche le serate in discoteca. Però comunque niente che mi proiettasse in questo. Però in quel momento lì immagino che tantissime persone al tuo posto forse non ci avrebbero neanche provato. Non lo so, perché per me è stato proprio uno scontro. Secondo me molti avrebbero detto, ma figurati se mi prendo, cioè perché a Lai di Ibiza o all'Ushuaia dovrebbero prendere proprio me, che sono un ragazzetto di Roma. Tra l'altro io il curriculum me lo mandò dopo aver lasciato l'università. Io non è che ho mandato, io non avevo un piano. Cos'è che stavi provando quando eri lì, che non avevi certezze e hai detto lo faccio? Cioè l'hai fatto senza porte aspettative? L'ho fatto per sfinimento, credo. Non succede ma se succede? E di mandare il curriculum? No, in realtà è stato ancora più naturale, perché appunto come dicevi tu che adesso il lavoro si mostra su Instagram. E questa è una piccola parentesi, un fun fact, che io in realtà il mio primo lavoro l'ho preso su Instagram. Ah, veramente? Sì, perché io questa azienda che poi mi ha chiesto, loro mi hanno chiesto il mio curriculum, gli avevo lasciato banalmente un commento, cioè avevano messo una foto, abbiamo spostato il nostro quartier generale a Londra e io gli ho detto tipo mi piacerebbe passare a trovarvi, loro mi hanno detto ci piacerebbe, mandaci un curriculum. Ma era un'azienda di… No, no, già la conoscevo, era l'azienda che poi sapevo, perché comunque mi ero cominciato a guardare un po' intorno, avevo fatto un po' i miei compiti a casa e ero già stato a Ibiza come cliente, quindi ero già affascinato dal mondo. Avevo già visto questa roba e ho detto wow, questi fanno delle cose fighissime. Sai che io l'unica volta in cui sono stato a Ibiza in vita mia la scorsa estate, cioè ho trovato una realtà ancora più chiusa di quanto non lo fosse l'Italia durante il Covid. Ero rimasto scioccato perché… ma da un lato è stato molto bello perché ho beccato un'Ibiza inaspettata e inedita, con zero locali notturni aperti e mi aveva scioccato qui in Italia, era settembre del 2021, comunque avevamo già tanta libertà, invece lì dove comunque si mangia molto tardi conosco questa ragazza che ha un ristorante nella città, si chiama Città Vecchia, quella di Ibiza, lì dove c'è il porto, non mi ricordo mai come si chiama, quella parte di città e questa ragazza mi aveva detto eh sì adesso dobbiamo chiudere a luna di notte e quindi paradossale, loro mi raccontavano in tempi normali un ristorante li chiude alle 5 del mattino, anche più tardi. No e quindi io sì, Instagram, lascio questo commento, loro mi rispondono ma certo mandaci il curriculum, mando un curriculum all'epoca praticamente vuoto e loro fanno questa scommessa, mi dicono vieni a Londra, ti facciamo un colloquio, vado a Londra, faccio il colloquio e un mese dopo mi dicono va bene ti va di venire a Ibiza da inizierai a maggio, finisce a ottobre, ad una cifra totalmente fuori mercato, cioè che se adesso ci ripenso dico sono stato sfruttato, cioè una persona che già aveva fatto quel tipo di lavoro e che sapeva quanto avrebbe dovuto chiedere avrebbe chiesto tipo 4 volte quello che ho chiesto io, però io incosciente e non conoscendo ancora così a fondo questo mondo ho fatto il primo prezzo che mi sembrava assurdo, gli ho chiesto 2500 euro al mese che ti dico adesso col senno di poi è poco e tu mi dirai sei uno stronzo perché 2500 euro sono un botto di soldi, soprattutto sono un botto di soldi a 21 anni guarda non ti dirò mai se è uno stronzo perché parli con una persona, cioè dipende da che lavoro fai, spesso c'è questa narrazione che però a me sembrava un sacco, sembrava un sacco di soldi però da qualche parte dovevi pure iniziare, cioè credo che, poi correggimi se sbaglio, tu hai molta più esperienza sul campo di me perché qualche anno in più di me, però sono tutte cose che inevitabilmente impari facendo, no? esatto nessuno il primo giorno del suo lavoro adesso so come non farmi fregare su un prezzo e ancora mi trovo in difficoltà tu che consiglio dai? Lo so che è la domanda che ti fa chiunque, a chi vuole iniziare a fare questo lavoro perché io mi immagino tantissime persone che ci stanno ascoltando e guardando che dicono, vabbè, tante belle chiacchiere, lui ha avuto culo è cresciuto in una famiglia bella, benestante e ha avuto culo cosa rispondi a quelli che dicono questa cosa e che consiglio dai a chi è lì che dice io voglio diventare non solo Jacopo Ricci, magari più bravo di Jacopo Ricci eh, io sono stato, alla parte ovviamente avere i mezzi per farlo ma non è neanche necessariamente perché comunque se poi vai a vedere nello specifico come io ho imparato a fare il mestiere che poi mi ha portato a fare quello che faccio oggi quindi come ho imparato banalmente a programmare una console luci che è stato il mio ponte tra sporcarmi le mani e diventare uno di quelli col guantino bianco come lo chiamano i tecnici, quelli che veramente montano i palchi ci chiamano quelli col guantino bianco io adesso sono a un livello ancora più alto perché in realtà non tocco guantino di seta esatto, neanche tante volte tocco la console io me lo sono proprio tolto il guanto, non me la sporco proprio la mano al momento e quindi questo, saper programmare la console è stato il mio ponte ma l'ho imparato banalmente con dei tutorial su YouTube cioè non c'è nessun segreto in questo lavoro nell'epoca attuale c'era magari vent'anni fa quindi il famoso studiare, prepararsi, cosa che bisogna fare per ogni lavoro nel mio caso è stata la curiosità però dico può essere una via tradizionale quindi un'accademia, l'università, quello che è ma può essere anche, cioè si può fare da autodidatti questo voglio chiedere totale a cazzo di cane esatto, il caro vecchio a cazzo di cane che è stato il mio mantra che mi ha portato fino a qua che non è necessariamente il mantra che può funzionare per tutti perché è chiaro che c'è un po' di tutto poi nel mio percorso c'è un po' di mio, c'è un po' dei miei genitori c'è un po' della mia ex, c'è un po' della mia attuale ragazza c'è un po' di tutti, dei miei migliori amici c'è di tutto, c'è la fortuna, c'è il tempismo anche il covid in questo caso perché appunto ti dicevo che il covid è stato il motivo per cui io ho deciso di accelerare questo processo ho detto adesso mi comincio a vendere come direttore creativo ho deciso di fare questa cosa molto americana in cui ti vendi e poi capisci come farlo fake it until you make it cioè fingi di esserlo finché non ce la fai però ho detto mi accollo questo rischio perché ho detto forse ho fatto abbastanza esperienza che dico pure se mi dovessi trovare in una situazione di merda magari ho abbastanza esperienza per sapere come cavarmela e sta funzionando voglio farti una domanda a cui puoi rispondere solo con sì o no cioè in realtà voglio argomentarla però voglio una risposta secca perché credo che il mondo, qualunque lavoro, qualunque vita uno si sia scelto in un'era come quella in cui viviamo dove i social sono una parte molto importante della nostra vita il mondo è diviso in persone che dicono è più importante raccontare quello che faccio dell'effettivo contenuto piuttosto che fare è vero che apparire è più importante di essere nel tuo lavoro, nel mondo dello spettacolo oggi cioè è molto più importante essere un bravo light designer o raccontare su Instagram o su TikTok di essere un bravo light designer allora ti dico intanto secondo me no quindi non è importante apparire però ti dico anche che so che in fondo in fondo lo è ma io sono pessimo a farlo e quindi cerco la scusa possiamo dire che il profilo Instagram di Jacopo in realtà è molto figo però in realtà una volta era molto più pieno di contenuti prima che tu mi conoscessi io postavo un sacco tipo nel 2019 io postavo storie sempre mentre ero in giro per il mondo quindi potevi seguirmi praticamente e oggi se ero a fare una data avrei postato un video di quella data adesso non lo faccio più ma banalmente perché la mia mole di lavoro è aumentata in una maniera incredibile e quindi mi viene da pensare che se hai così tanto tempo da postare cioè è un po' brutto perché è un po' quell'arrivismo da businessman male che dice se hai tempo libero significa che non stai lavorando abbastanza no non è quello che sto dicendo vuol dire anche avere una vita sana esatto però per esempio adesso le mie priorità si sono spostate completamente io Instagram non posto più molte storie ho un mio profilo privato su cui posto per i miei amici che adesso tutti andranno via esatto esatto però è privatissimo quindi non accetto nessuno se non ti conosco di faccia e quindi adesso sei ben accetto nel mio profilo di shitposting no non si può dire posso dirti ne ho uno anch'io su cui ovviamente ti aggiungerò perfetto perché è un grosso sfogo perché poi c'è proprio questa può stare a cazzo proprio mettere roba brutta volutamente esatto è una bella sensazione e quindi niente sto non lo curo perché non ho tempo in questo periodo cioè mi trovo proprio che dico ma io adesso stasera no ho finito di lavorare magari finisco qua adesso torno in studio poi a mezzanotte finisco e domani mattina alle 8 devo essere in Duomo di nuovo a lavorare ma perché devo mettermi lì a pensare oddio questa foto è meglio di quest'altra quale filtro metto che caption metto ma perché forse sei in un momento in cui non ne hai più bisogno cioè è una cosa che magari molti fanno la mia ragazza mi odia per questo lei dice che io invece dovrei pubblicizzarmi in questo periodo mi sto un po' più concentrando su quello che ti dicevo prima ovvero costruirmi il mio orticello il mio spazio nel mio paese perché penso di avere tutto il diritto di lavorare qua e perché quando sono tornato qui mi sono scontrato col fatto che ho detto ma cazzo ma io per fare show di un certo livello devo veramente essere costretto a vivere all'estero cioè per raggiungere questo livello devo per forza andarmene devo per forza abbandonare i miei amici le mie abitudini il fatto di vivere a 200 metri dal mare banalmente ma tra l'altro non so se hai presente io faccio sempre questo esempio perché tutti noi siamo schiavi di questa cosa ne parlavamo prima dell'America che è migliore in tutto se tu prendi io che da grande voglio fare il conduttore il conduttore televisivo radiofonico il presentatore ovviamente mi guardo tantissimo la televisione noi abbiamo il mito della radio della tv americana non so se ti ricordi l'inizio di Sanremo 2020 il primo festival ci metto dentro anche l'ultimo quello prima del covid quello di febbraio 2020 ah sì sì quello che si la smarcarono proprio esatto appena in tempo cioè su youtube se volete dargli un occhio per me l'inizio di quel festival da un punto di vista di luci immagini proprio di televisione posso dire che pisce in testa agli oscar agli emmy a tantissime cose fatte in america c'è tanto c'è tanto in italia abbiamo delle eccellenze incredibili esatto da questo punto di vista però appunto poi ci sono tutte quelle famose dinamiche che ti accennavo prima di giochi di potere e vari accordi più o meno legittimi che trovi poi con cui ti scontri nel tuo percorso veniamo alle cose belle vai vogliamo sapere delle verità non scomode vai però oggettivamente nel momento in cui hai passato dei mesi in giro per il mondo jet privati tanti jet privati immagino dj quest'anno sei stato al quacella hai lavorato allo show di The Weeknd era su di Shows Mafia che forse insieme a Harry Styles è stata la cosa più grande che c'è stata al quacella voglio sapere qual è la cosa più assurda che noi comuni mortali non possiamo neanche immaginarci che tu hai visto nella tua carriera tosta tipo che ne so fare tre show in tre città diverse nello stesso giorno una roba così potrebbe che città erano per dire erano erano tutte e tre sulla west coast no erano due sulla west coast in America e una un po' più interna quindi poi siamo andati addirittura contro il fuso in quel caso ok li abbiamo remato proprio perché lì erano più avanti in quei casi l'artista arriva un secondo prima fa esatto e noi ovviamente sfruttiamo il viaggio per preparare tutto però vieni vieni già da due date perché magari fai un festival che ne so al pomeriggio poi subito impacchetti tutto cioè non l'impianto in quel caso fai richieste locali però impacchetti le persone e le spedisci in un altro posto certo su un jet chiaramente perché non puoi affidarti agli orari di aerei normali perché non ci stanno quindi fai il festival poi te ne vai e fai una serata alle non lo so alle nove alle dieci di sera in un altro posto e poi ti fai la chiusura alle quattro di mattina in una warehouse da qualche parte e invece cose se voi bippiamo dei nomi cose proprio che mai ti sareste aspettate proprio pazzesche cioè che il primo aneddoto che hai raccontato ai tuoi amici di hostia con cui sei cresciuto ah no il primo aneddoto è stato di un artista cioè io non credo che nel backstage del quacella tu non abbia visto no allora in realtà in quest'ultima edizione niente di bizzarro ok è stato un edizione cioè piuttosto poi era l'ultima edizione è stata la mia prima edizione cioè la prima volta che andavo al quacella in presenza ho fatto delle cose da remoto però mai proprio lì e non mi è sembrato così strano certo ci sono una serie di personaggi che sono strani ma per loro cioè nel senso sono loro così però in quanto a stranezze no c'è l'unica cosa che proprio mi ha stupito e che mi ha fatto capire proprio di essere in un mondo strano e anche sbagliato se vuoi su certi versi è stato un artista famosa che vabbè se la BPL ok e che come regalo di fine produzione a tutta la sua crew ha regalato dei Rolex d'oro come se fossero delle caramelle ma a chiunque ne ha comprati tipo 100 che è anche tipo penso abbastanza complesso da reperire 100 Rolex tutti uguali incisi con il nome di ognuno e il tour e tipo grazie e la sua firma beh però è una cosa molto bella ti fa capire che sei proiettato in un 1% del mondo sì che non ha un contatto con la realtà esatto e quindi poi c'è sempre tutta quella parte in cui è molto importante ed è per quello forse che io non me ne sono mai andato da Roma che è quella di riconnettersi poi con le tue cose tornare con i piedi per te esatto cioè io ancora voglio e io adesso sto bramando di tornare a Roma da qua e chiudere tutti i lavori che ho qui a Milano per tornare a Roma e farmi un tramonto in canoa con i miei amici al mare cose stupidissime no ma che però mi aiutano a dire ok questa roba esiste cioè è questa la vita non è quella quello è il mio lavoro quella è una simpatica parentesi che però poi ti riporta nel posto felice ma dopo un po' diventa anche troppo e i jet e gli alberghi basta dopo un po' cioè dopo un po' voglio la mia casa voglio il caldo voglio il mio cane la mia famiglia ci sono tutta una serie di cose che cominciano a mancarti e che cominci ovviamente ad apprezzare sta cosa che hai detto è incredibile credo sia un bellissimo messaggio visto lo spirito di questo podcast cioè di imparare attraverso l'esperienza di persone che fanno lavori incredibili come il tuo perché la maggior parte delle persone pensano che tutto questo sia la felicità esatto avere una persona come te che l'ha vissuto che ti dice no la felicità è il tramonto a Roma con i miei amici lo è cioè sono dei momenti belli della vita però il mio lavoro mi dà tanta gioia cioè io sono felice di farlo però non è tutto non sto dormendo in questi giorni però non mi vedi non odio la vita in questi giorni non si direbbe comunque guardandoti sono abituato ormai a nasconderlo però ecco non 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 è non è quello non è quello la mia vita quello è una cosa che mi piace fare è una cosa che mi dà soddisfazione è una cosa molto bella e che non mi pesa fare però rimanerci incastrati è molto pericoloso ed è quello che succede per esempio a tanti artisti cioè rimanere incastrato in quella dinamica in quella vita falsata in cui tu finisci di fare festa alle 11 di mattina torni in un 5 stelle e ordini perché sei l'artista e hai un sacco di soldi di 1000 euro di colazione anche perché poi nel momento in cui quella cosa viene a mancare non hai più nulla esatto cioè se tu ti aggrappi a quello poi ti abitui al fatto che quello è il tuo tenore di vita ma quella non è la tua vita perché non la stai pagando tu io non viaggio in jet privato io adesso magari mi concedo un volo in business perché me lo faccio pagare da una produzione perché è giusto che quando io arrivi sia in grado di intendere di volere perché vado a lavorare e quindi quando faccio un volo di 12 ore è quello per cui la business class è nata esatto c'è proprio il nome nel senso io dopo 12 ore di volo atterro e devo essere subito al 100% non posso permettermi di prendermi un giorno perché mi devo riprendere dal fuso cioè atterro e lavoro devi essere sul pezzo comunque quando parlavi della storia degli orologi mi è venuta in mente un'ospitata e a proposito di persone che non hanno il contatto con la realtà mi è venuta in mente un'ospitata di Bill Gates da Ellen ok tra l'altro che ha smesso di fare il suo show quest'anno eh l'ho visto e fanno un gioco in cui lei gli chiede per dimostrare quanto lui sia fuori dal mondo ma ti ricordi quanto costa un litro di latte e lui dice tipo 20 dollari ah ok proprio una cifra fuori probabilmente è quello che lui paga il delivery che glielo porta e mi fa venire in mente un'altra battuta di Ricky Gervais comico che non so se adoro proprio fanboy fanboy totale per contestare quelli che gli dicono tu fai comicità d'osservazione ma ormai non hai più il contatto con la realtà lui dice a volte dei giornalisti per criticarmi sotto questo punto di vista mi chiedono lei sa ad esempio quanto costa un litro di latte e lui risponde no ma ecco mille dollari vammelo a comprare ok proprio lui risolve il problema in questo modo è grandioso grande Ricky ti aspettiamo che lo stagista podcast sarebbe un grande sogno diventare il tuo stagista voglio farti una domanda particolare hai ancora ogni tanto ce l'ho quella sindrome dell'impostore un po' e la paura di fallire anche quando hai tutte queste certezze attualmente ho per esempio proprio in questi giorni ne parlavo ieri mattina e mi sento un po' in difetto perché su un lavoro ho un collaboratore finalmente ok un postagista esatto ho un assistente pagato dalla produzione sono riuscito a farmi pagare che non sono io che è una grossa pietra miliare per me perché significa che finalmente la mia professionalità viene riconosciuta a prescindere dal fatto che io effettivamente produca qualcosa di tangibile cioè comincio ad essere pagato perché il mio cervello serve a questa cosa e non solo perché sto effettivamente facendo qualcosa di pratico e questa cosa ti ha fatto venire un po' la sindrome dell'impostore mi ha fatto venire un po' la sindrome dell'impostore perché vedo questo cristiano che adesso mentre stiamo parlando è in una stanzina a Bresso fuori Milano che sta programmando il tour di Achille Lauro ciao Giorgio lo salutiamo esatto lo salutiamo non vedrà mai questo podcast perché semplicemente non ha il tempo nella sua vita esatto è schiavizzato attualmente è chiuso in quella stanza però per esempio sto cercando di fare le cose in maniera diversa quindi ieri sono andato da Ikea io ho comprato una pianta delle candele un tappeto delle abbajur quindi non lavoriamo per esempio con la luce neon di questa stanza infatti volevo chiederti che tipo di di ambientazione no che tipo di capo sei quando ti ritrovi davanti uno come me uno stagista molto a parte che se fossi stronzo non lo diresti flessibile sei flessibile ok flessibile direi non sono né buono né cattivo è una cosa che proprio non tolleri l'incoerenza ok quindi o le bugie sono due due cose che possono anche andare molto cioè si sovrappongono e si sfumano tra di loro però tendenzialmente sono molto tranquillo se se adesso dovessi tornare e lui mi dicesse guarda non ho fatto nessuna canzone nuova rispetto a quando te ne sei andato non non impazzirei mai ok perché comunque so che il tempo che gli ho dato per fare questo lavoro è ampiamente proprio perché ho un'esperienza io in prima persona di spingere quei pulsanti quindi forse il mio percorso mi rende diverso non è scontato però nel momento in cui diventi capo avere l'umiltà di ammetterle di dire che ci sono passato anch'io per esempio sto passando tutti i giorni con lui nella stanzetta un po' per placare questo mio senso questa sindrome dell'impostore in cui dico cavolo lui è lì e io non sto facendo niente in teoria in questo momento però dico forse me lo sono anche un po' guadagnato di essere qui mentre c'è qualcuno che lavora al posto mio che comunque pago assolutamente ci tengo a sottolinearlo non è non sta lavorando pro bono non come voi pensate quanto meno esatto però sì un po' quella cosetta c'è però mi abituerò chiaramente ma sì assolutamente è il mio primo contatto con questo nuovo modo molto strutturato se vuoi è maturo e adulto di lavorare per la prima volta e sta accadendo in questi giorni posso dire che prima di iniziare questa chiacchierata avevo quasi paura visto che spesso mi capita di fare interviste ma di 6 minuti 10 minuti di non avere argomenti invece stiamo parlando praticamente da da tantissimo però spero che chi ci sta guardando ascoltando abbia imparato tante cose come le sto imparando le ho imparate io siamo quasi alla fine voglio chiederti qual è il più grande insegnamento che hai ricevuto da qualcuno da un tuo maestro da un tuo parente dalla vita che non hai mai condiviso con nessuno fino a questo momento ma che può essere l'aiuto a tante persone cavolo e quanti secondi ho per rispondere a questa domanda se vuoi facciamo altre due volte no e oddio l'insegnamento più grosso e forse è sapere appunto ed è una realizzazione che però di cui ho preso coscienza solo da poco quindi è stato forse una roba che mi hanno un po' per induzione però è stata forse proprio quella di scegliere le mie battaglie perché io ero proprio uno te l'ho detto proprio fiero super che prende tutto super sul personale e questo ovviamente era un grosso ostacolo al mio lavoro e adesso che ci riesco ogni tanto comunque non ho ancora pieno controllo di questo mio nuovo potere quando lo avrò ovviamente sarà un grosso alleato perché chiaramente nel momento in cui tu riesci a non solo a farti scivolare addosso eventuali problemi insulti dicerie che poi ovviamente come in ogni posto di lavoro ci sono non solo riesci a fare quello ma riesci anche a performare al tuo standard in condizioni di critiche quindi con budget ridotti o io adesso banalmente per Achille Lauro non ho niente del mio impianto luci qua a Milano sto facendo tutto in 3D e fra 4 giorni 5 giorni andrò in Molise nel magazzino esiste esatto nel magazzino dove ci sono le luci a farmi 3 giorni a guardare luci però questo per me è un ostacolo teste mobili esatto perché questo per me erano i giorni per farlo e se fossi se mi fossi lasciato schiacciare da questo se avessi puntato i piedi e avessi detto no voglio le luci qua mi avrebbero detto ok ti arrivano il 29 e hai un giorno e a quel punto io avrei perso avrei vinto la mia battaglia perché effettivamente le luci magari me le mandavano qua però me le mandavano quando potevano invece io di essere di essere io flessibile e di dire va bene cavolo questa roba è successa non è colpa tua non è colpa mia magari ok la prossima volta cerchiamo di fare meglio però mi metto io in prima linea vado giù e mi porto giù i miei collaboratori wow è stata una bellissima chiacchierata e noi vorremmo questo è il primo episodio quindi nessuno lo sa ve lo diciamo adesso e lo dico anche a te noi vorremmo tanto che ogni episodio dello Stagista Podcast si concludesse con l'ospite cioè con la con la persona di cui sono stato Stagista in questo caso te Jacopo Ricci per chi avesse acceso il podcast a questo punto della traccia audio tornate indietro vorremmo che si chiudesse con te che scrivi su questo fantastico quadernetto che abbiamo davanti una domanda quella che vuoi e noi non la sapremo a cui l'ospite e tu non sai chi sarà della puntata successiva dovrà rispondere quindi adesso ti do questo quadernino ed è tutto nelle tue mani può essere la domanda che vuoi sul senso della vita può essere qualunque cosa quello che vuoi ok e dopo averla scritta devi richiuderla e la scopriremo con l'ospite della prossima volta lo scrivo dove voglio prima pagina inauguro questa prima pagina proprio formalmente prima pagina è tutto nelle mani di Jacopo Ricci vai con la mia pessima scrittura hai già una vaga idea o la stai daily planning vado su una a caso poi la trovate voi ma anche la prima dove c'è la prima dove trovo un buco dove ti pare ok aspetta veniamo non ti devo dire niente chiaramente assolutamente nulla assolutamente niente firmati dopo ok grande concentrazione perché in effetti è un podcast e stiamo zitti in questo momento ci scrivo da Jacopo Ricci e poi ci metto la data Jacopo ti ringrazio è stata una chiacchierata interessantissima bellissima ne esco davvero grazie è stato un grande onore e piacere essere il tuo stagista per un giorno vai a un posto Jacopo Ricci grazie ciao 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 Grazie.